Si doveva parlare del futuro di senologia e Sernia ma si è andati ben oltre questo problema. Al termine dell'Assemblea dei Sindaci si è infatti deciso in maniera compatta di creare un comitato provinciale in difesa dei presidi ospedalieri pubblici e del territorio. Almeno inizialmente sarà composto dai sindaci di Sernia, Agnone e Venafro, più altri tre dei centri maggiori, dal presidente della provincia, dai rappresentanti delle varie associazioni nate in difesa della sanità e dai rappresentanti degli studenti. Il portavoce del comitato in seno al problema Emilio Izzo si è detto ampiamente soddisfatto per il risultato ottenuto ed è apparso ottimista anche sul futuro di senologia al veneziale pur nella consapevolezza che questa non sarà l'unica battaglia da portare avanti. La senologia l'è stata fatta a Sernia negli anni, negli ultimi 20 anni se l'è costruita sul campo. Il problema è un punto più serio invece perché si parla anche di ortopedia come io già avevo annunciato diversi giorni fa e questo diventa ancora più serio. È la dimostrazione che evidentemente negli ultimi anni si è lavorato per smantellare l'apparato pubblico per spostare tutto verso il privato e oggi troviamo in una condizione da dover dire ai nostri concittadini che se non ci facciamo valere noi non avremo più un ospedale pubblico, non solo quello di Sernia ma Venafro e Agnone e quindi saremo nelle condizioni di non poter più garantire ai nostri congiunti le cure adeguate. Nell'immediato i cittadini e gli amministratori chiedono la riattivazione del punto di primo soccorso al Santissimo Rosario di Venafro, la conferma dell'apertura 24 ore al giorno del servizio di emergenza urgenza del caracciolo di Agnone e il potenziamento del pronto soccorso del veneziale di Sernia oltre che della senologia. Più in generale si chiede con forza ai commissari di decentrare i servizi. Per il presidente della provincia Lorenzo Coia è arrivato il momento di dire basta a una politica che di fatto sta centrando tutto su Campobasso. Noi non vogliamo che il processo di razionalizzazione porti a una marginalizzazione delle strutture periferiche in particolare i Sernia Venafro e Agnone e una polarizzazione di servizi soltanto sull'ospedale regionale che a sua volta ha anche la cattolica a fianco a 100 metri di distanza. Quindi significa che la mobilità sanitaria regionale verrà tutta polarizzata verso il centro unico regionale. Abbiamo detto ai commissari che il processo di razionalizzazione può portare anche un decentramento ma il decentramento non significa che tutte le unità operative complesse devono essere accentrate sull'ospedale regionale. Possono anche essere decentrate sui Sernia con una proiezione verso l'ospedale regionale.